Andiamo a vedere qual è il titolo nel mirino della settimana, come sempre facciamo con te Enrico. Eccolo qui, NIO, un titolo di cui parliamo spesso, soprattutto quando lo mettiamo in relazione a forse al più conosciuto, ma forse ormai neanche più di tanto, Tesla. Dunque, casa automobilistica cinese che attiva dal 2014, sede a Shanghai e naturalmente specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli elettrici. Peraltro, a proposito di questo confronto che si fa sempre tra NIO e Tesla, leggevo proprio una delle ultime notizie, farà concorrenza diretta in questo momento a Tesla con un'auto tipo Model S. E peraltro, NIO, e poi ti do la parola, ha riportato dei forti risultati trimestrali. Questo ha un po' impressionato il mercato, vista la situazione attuale, ovviamente sappiamo la situazione come carenza di componenti, ma insomma questo non sembra aver toccato questa casa automobilistica. Mi fermo, do a te la parola Enrico, perché questo titolo? Beh, io ho messo nel mirino e quindi sostanzialmente in watch list NIO per ragioni di evidenza grafica, per ragioni di prezzo. Un titolo che un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, sembrava il classico titolo esplosivo e sembrava che potesse velocemente ricalcare il movimento di Tesla, per cui trader molto giovani, rampanti, ottimisti la davano come opportunità obbligatoria da mettere in portafoglio. Salvo poi appunto smentire totalmente questa previsione, NIO è andato a fare un importante bottom in area 12 dollari. E sui grafici che abbiamo preparato si può proprio evidenziare un movimento, un pattern, probabilmente il pattern più famoso, più ricercato dai trader, che poi sostanzialmente è un pattern che non si verifica molto spesso. Sì, adesso vediamo il primo, così intanto eccolo qua. Esatto, sostanzialmente quello che vediamo è un profondo downtrend partito da luglio del 2021 da area 56 dollari per arrivare fino all'area 13 di poche sessioni fa. Da lì è partito un movimento rialzista e vediamo che i tre minimi che io ho evidenziato nelle ellissi sembrano proprio essere sostanzialmente un testa e spalle. Un testa e spalle rialzista, proprio perché si colloca dopo un lungo downtrend. La retta nera che ho tratteggiato è la cosiddetta neckline, ossia la linea del collo, per cui la linea che se rotta al rialzo darebbe il segnale che il testa e spalle si è completato. Questa rottura al rialzo è avvenuta ieri, quindi oggi a differenza di altri titoli che abbiamo proposto nelle sessioni precedenti con te, perché oggi siamo proprio sul pezzo e quindi non andiamo a dire se e quando arriverà a un certo livello. Oggi ho proposto NIO che sembra, in parole povere, pronto da subito. Il testa e spalle prevede che dopo la rottura della neckline il prezzo la vada a retestare come supporto. Chiaramente ieri si è avuto, mi sembra, un più 9 sul NIO con un'apertura anche in gap e quindi potremmo magari non rivedere un test preciso dei 23 dollari, ma anche un test in area 23 dollari, quindi anche 23,10, 23,20. Quindi un ritraccio già tra oggi e domani a quel livello, secondo me potrebbe dare immediatamente uno spunto rialzista importante. Il pattern mi sembra preciso, proprio visibile anche a occhio. Dico questo perché tante volte quando si va a cercare una figura, pur di fare trading ci si autoconvince che quella figura ci sia, ossia il nostro occhio tende ad adattarla ai nostri desideri. In questo caso, ripeto, mi sembra di poter dire che ci sia. Soprattutto nella ellisse centrale, quella che corrisponde alla testa, vediamo che c'è un gap a scendere e un gap poi a salire. Quindi abbiamo anche un'altra figura di analisi tecnica dove adesso non ci andiamo ad approfondire, ma comunque anche lì un forte segnale rialzista. Quindi credo che NIO abbia sostanzialmente invertito il trend e che su un eventuale ritraccio, anche minimo, potrebbe essere un'ottima occasione per l'acquisto di medio periodo. E poi nel secondo grafico si può andare a evidenziare come i minimi raggiunti poche sessioni fa in area 13 dollari possano essere dei minimi interessanti anche per chi va a utilizzare Fibonacci per cercare dei livelli importanti. In questo caso vediamo come dai massimi di novembre del 2020, addirittura in area 68 dollari, il prezzo fosse sceso fino ad area 33 dollari dove abbiamo quella retta in giallo che ho tratteggiato e quel target dei 33 dollari poteva essere un movimento ampio dal quale il prezzo sarebbe potuto ripartire. Poi invece è stato rotto al ribasso e come vediamo dove ho messo la freccia rossa a scendere, è stato poi retestato come resistenza. E da lì c'è stata un'ulteriore spinta ribassista che ha portato proprio ai minimi di pochi giorni fa sostanzialmente e tutto il movimento corrisponde all'1 e 618 di Fibonacci, quindi il livello aureo è il livello più importante del matematico pisano, che ha tenuto in maniera perfetta, per cui abbiamo una griglia che secondo me dà evidenze molto molto precise, va a confermare quanto visto prima, quindi abbiamo più di un indizio che non fa una prova perché nel trading non c'è niente di sicuro, ma fa NIO come una fortissima sospettata di rialzo, per cui NIO secondo me va assolutamente nel merino da subito. In watch list, perfetto, naturalmente poi insomma per approfondire potete contattare direttamente Enrico anche per capire quali altri titoli in questo momento sta mettendo in watch list, ma insomma se lo seguite vedete e c'è già qualcuno che poi dà delle indicazioni rispetto a titoli che hai segnalato proprio in questo periodo Enrico. Quindi grazie, questo è il titolo nel merino della settimana NIO. Grazie.